Deliberazione della Giunta Comunale di Caltanissetta sul progetto Farmacia di Quartiere 2018, confermato il protocollo d'intesa tra Federfarma e Amministrazione Comunale, già sottoscritto a dicembre. Confermata la contribuzione pari al 60% al costo per l'acquisto di farmaci con l'ulteriore agevolazione di usufruire di uno sconto del 10%, sostenuto dalle famiglie aderenti al progetto, per le famiglie a 20 figli minori di età compresa tra 0 e 12 anni, sul costo dei farmaci prescritti dal pediatra appartenente alla famiglia disagiata. Decisa l'estensione dell'intervento alle stesse condizioni anche per l'acquisto di farmaci di fascia C, S.O.P.O.T.C., nonché dispositivi medici per anziani over 65. Inoltre, tali agevolazioni sono destinate a coloro che versano in precarie condizioni individuate attraverso ISEE di valore inferiore o pari a 9.000 euro, destinata allo scopo la somma di 9.000 euro, bilancio 2018.